Buongiorno a tutti, come previsto dal regolamento siamo qui riuniti presso la Sala Consiliare del Comune di Meita per procedere all'estrazione dell'iPhone 13 messo in palio nell'ambito dell'evento Pizza da Mare, svoltosi il 26 e 27 maggio presso la Marina di Meita. Procedo alla lettura del verbale. L'anno 2022 a D21 del mese di giugno alle ore 10 presso la Sala Consiliare della Sede Municipale del Comune di Meita sono presenti il signor Luigi Russo, presidente dell'Associazione Turistica Proloco Terra delle Sirene di Meita, con sede presso la Casa Comunale via Municipio 13. La signora Veronica Fiorentino, addetta alla segreteria dell'Associazione Predetta, che ha anche l'incarico per la redazione del presente verbale. In rappresentanza del Comune di Meita, come previsto dal regolamento, José Astarita, dipendente del Comune di Meita, addetto al servizio turismo. Premesso che l'Associazione Proloco Terra delle Sirene, in collaborazione con il Comune di Meita, ha organizzato nei giorni 26 e 27 maggio 2022 un evento presso la Marina di Meita, denominato Pizza da Mare, per la promozione delle attività di pizzeria del territorio. Che nell'ambito di tale evento è stata organizzata una lotteria abbinata alla manifestazione predetta, per l'assegnazione di un premio finale di un iPhone 13, i cui tagliandi sono stati distribuiti durante la manifestazione stessa, e la cui estrazione è stata prevista per la giornata di oggi, 21 giugno 2022, alle ore 10, che l'Agenzia dei Monopoli di Napoli ha autorizzato detta lotteria, con nota numero 41905 RU, dell'11 maggio 2022, unitamente al regolamento di attuazione. Ciò premesso, si procede alla estrazione del tagliando vincente. Si precisa che i tagliandi sono stati compilati dai partecipanti, nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, ed imbucati in un'apposita urna, inizialmente presente nell'ambito della manifestazione, e successivamente disponibile presso la sede della Proloco. La presente seduta viene trasmessa in diretta streaming sul profilo Facebook del Comune di Meta, come previsto dal regolamento. Alla presenza dei sui indicati, il Presidente presenta l'urna, su cui viene realizzata un'apertura, attraverso la quale si procede all'estrazione di un biglietto, previo mescolamento, da parte della sottoscritta. Adesso apro, scusate la mia laucetine, apro la urna, faccio una bella giravolta di tutte queste belle urne. Eccolo qua. E adesso la signora Veronica. Questa è una straniera. Sara Berling. Eccola qua. Per la privacy, non... Il numero del biglietto è 00852. Posso dare a Sara Berling. Germania. Il biglietto vincente risulta appartenere alla signora Sara Berling, contrassegnato dal numero seriale 00852, che sarà immediatamente contattata telefonicamente per comunicarne la vincita. Si rammenta che è possibile ritirare il premio fino al giorno 1 settembre 2022, come previsto dal regolamento, pubblicato sul sito della Proloco. Alla luce del fatto che i biglietti contengono dati personali, gli stessi rimalenti dopo l'estrazione verranno distrutti. Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti. Complimenti per la vincita alla signora Berling. Ringraziamo tutti per aver partecipato e ci diamo appuntamento all'anno prossimo. Mi spiace per gli italiani che non hanno vinto, ma purtroppo c'erano anche molti stranieri, per fortuna, giù al mare. Auguri a tutti e ci vediamo alla prossima tornata, l'anno prossimo. Speriamo bene.